In Italia sono purtroppo ancora innumerevoli i casi in cui, a causa dei pregiudizi, le persone con sindrome di Down si vedono negare dei diritti fondamentali, come un giusto sostegno scolastico, i necessari interventi riabilitativi, l'opportunità di svolgere un lavoro proficuo o addirittura la possibilità di divertirsi come i loro coetanei. Con maggiori fondi a disposizione, sarebbe possibile affermare i loro diritti attraverso l'avvio di azioni di tutela, progetti di inclusione e di autonomia e una migliore attività di informazione. È per questo che l'11 marzo, dieci giorni prima della giornata mondiale sulla sindrome di Down, il CoreDown ha lanciato un'ambiziosa campagna online di sensibilizzazione e raccolta fondi dal nome Dammi Più Voce. Sul sito coredown.it, 50 persone con sindrome di Down hanno chiesto una donazione particolare a 50 personaggi famosi. Non hanno chiesto infatti di donare dei soldi, ma di donare un video. Un video in cui fossero i VIP a chiedere di sostenere i diritti delle persone con sindrome di Down con una donazione. Amplificando così la loro voce. Un video che poi, se condiviso dagli stessi VIP sui social network, avesse più probabilità di essere ascoltato. Ognuno dei ragazzi ha chiesto la donazione di un video a un proprio idolo. Luca a Tiziano Ferro. Dammi Più Voce. Giacomo a Francesco Totti. Dammi Più Voce. Andrea addirittura a Shannon Stone. Dammi Più Voce. Sì, perché non sognare? L'obiettivo è quello di arrivare alla giornata mondiale sulla sindrome di Down del 21 marzo con il maggior numero di risposte possibile. Non sappiamo quanti personaggi famosi decideranno di donare un proprio video per il 21 marzo e condividerlo. Ma sappiamo che più decideranno di farlo, più persone saranno raggiunte. Maggiori saranno le possibilità di ricevere delle donazioni. E la voce delle persone con sindrome di Down, finalmente forte. non resterà più inascoltata.